Buongiorno e benvenuti all'appuntamento delle 12 e 30 con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con l'aggiornamento sulla situazione Covid perché c'è stato un nuovo record di contagi in Friuli Venezia Giulia, 872 i casi, record anche di tamponi 8629, 7 i decessi. Salgono a 45 le persone ricoverate in terapia intensiva ma ciò che preoccupa è soprattutto il numero dei ricoverati complessivi nelle strutture ospedaliere a causa del Covid, ovvero 286. Vediamo il servizio. Il rapporto rimane quello di 1 a 10 e quindi sotto la soglia d'allarme ogni 10 tamponi ne risulta uno positivo. La mortalità torna a scendere sotto le 10 unità, oggi 7 i casi registrati in Friuli Venezia Giulia. Ciò che destra maggiormente l'allarme e crea più problema per la saturazione degli ospedali è il numero di persone ricoverate che tocca i 286 casi quando durante la prima ondata di marzo, quando era scattato il lockdown totale, i casi erano poco più di 230. E' record di contagi in regione 872 a fronte di 8629 tamponi eseguiti. Salgono a 45 ricoveri in terapia intensiva, anche se i reparti sono lontani dall'essere off limits, 175 posti disponibili, dato che fa il Friuli Venezia Giulia un'eccellenza nel panorama nazionale. I morti per Covid avevano di media 80 anni, in 5 casi su 7 erano già ricoverati in ospedale. Per quel che riguarda le nuove positività, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 49 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno di tali strutture sono in totale 21. E proseguono le azioni di riassetto delle strutture sanitarie per garantire ulteriori posti letto dedicati alla cura di media e bassa intensità, che coinvolgono anche la RSA di Cormons. Nel contesto emergenziale la riconversione della RSA è stata una scelta importante, anche se difficile. Le stiamo moltiplicando sul territorio e voglio ringraziare il Sindaco Felcaro per l'atteggiamento responsabile che aiuta il sistema sanitario pubblico a garantire cure adeguate alle persone colpite da coronavirus. Lo ha dichiarato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi, confermando che la RSA di Cormons sarà riconvertita a RSA Covid, garantendo così una disponibilità di 30 posti letto. Per assicurare la persecuzione delle cure ai pazienti non Covid che necessitano di riabilitazione, il distretto Alto Isontino ha quindi previsto nei prossimi giorni il trasferimento dei pazienti della struttura all'ospizio marino di Grado, che ha messo a disposizione 20 posti, ha spiegato Riccardi. Nei primi giorni della prossima settimana la struttura di Cormons potrà accogliere persone positive al coronavirus non autosufficienti provenienti da case di riposo e pronto soccorso delle aree Isontina e Giuliana, come previsto dal piano pandemico dell'Asugi, che stabilisce una sorta di principio dei vasi comunicanti tra i presidi di Trieste e di Gorizia. Stiamo vivendo una fase molto critica dell'emergenza sanitaria e alcuni aspetti salienti della lotta alla diffusione del contagio stanno venendo meno. A dirlo il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Maormair, lamentando la mancata informazione dei contagi dal 31 ottobre, in particolare sulle persone sottoposte a quarantena e sulle guarigioni. Ascoltiamolo. La nota quotidiana che davamo rispetto alla situazione dei contagi non c'è più. Non c'è più perché il Dipartimento di Prevenzione ci ha scritto alcuni giorni fa per informarci che ha di fatto ingolfato la situazione. Non abbiamo dati puntuali. Abbiamo appreso che c'è un positivo tra gli studenti dell'Istituto Comprensivo Meduna Tagliamento. Abbiamo fatto una verifica questa mattina e effettivamente è così e abbiamo informato del fatto anche il dirigente scolastico. La persona che è positiva è a casa e la cosa è comunque sotto controllo. C'è un decesso collegato alla Casa Albergo con le Danibulia. C'è stato un ospite della Casa Albergo che è stato ricoverato una ventina di giorni fa. Dopo qualche giorno ha contratto il coronavirus. Trasportato in terapia intensiva a Pordenone purtroppo questa notte è mancato. Però è da sottolineare il fatto che la Casa Albergo con le Danibulia non ha in questo momento situazioni di positività al proprio interno. Se noi siamo referenti per quella che è la sanità locale abbiamo bisogno di avere tutti gli strumenti e tutte le informazioni per poter agire nel miglior modo possibile. Credo che sia opportuno che l'amministrazione regionale sensibilizzi in particolare l'azienda sanitaria frigo occidentale, in particolare i vertici dell'azienda sanitaria, perché mettono in piedi un meccanismo che consente di ripristinare con regolarità le informazioni. Casi di Covid-19 anche a Sutrio. Ad aggiornare con cittadini rispetto all'evoluzione del contagio in paese è il primo cittadino, Mandio Mattia. Nell'ultima settimana sono stati diversi i casi di positività rilevati nel nostro comune, come in quelli adiacenti e in generale in tutta la nostra regione. Oggi, come 18 giorni fa e 7 mesi fa, alle famiglie colpite dal virus Covid-19 va il nostro più sincero e caldo abbraccio virtuale, che possiamo trasmettere attraverso questi comunicati. Ci auguriamo che possano presto guarire e tornare ad una vita il più normale possibile, visto i tempi certamente non facili che stiamo attraversando. Per fortuna alcuni cittadini ci comunicano la loro positività. Dai conti sommari fatti al momento ci sono dai 22 ai 27 positivi. Lunedì sono prenotate dal dottore che fa i tracciamenti dei contatti, 60 persone, spiega il primo cittadino a Telefriuli. Per quanto riguarda l'amministrazione municipale, un assessore è risultato positivo e anche un dipendente operaio. È stato sospeso il servizio scuola bus. Ieri sono stati eseguiti i tamponi della classe quinta della scuola primaria ed è risultato positivo un bambino, mentre io e un altro assessore siamo risultati negativi. E sono 13 i contagiati nel comune di Premariacco, a confermarlo il primo cittadino Michele De Sabata, che con l'ausilio della protezione civile ha fatto attivare i servizi a supporto delle famiglie in difficoltà. Intanto proseguono i lavori nel territorio e c'è una novità per quanto riguarda il guado sul torrente Malina. Sentiamo. Siamo anche fortunati. Incrociamo le dita, per adesso i numeri sono molto piccoli, comprendo anche la difficoltà dell'azienda sanitaria. Diciamo che i numeri non li ho aggiornatissimi, perché l'ultimo report riguarda quasi una settimana fa, mi portava a 12 positivi nel nostro comune. Sul sito della protezione civile ne trovo 13. Diciamo che sono numeri molto molto piccoli, se calcoliamo che abbiamo 4.000 abitanti, è una percentuale molto piccola. Comunque questi numeri ci permettono comunque di aver attivato la protezione civile, le famiglie che hanno bisogno per fare la spesa, le simili. Abbiamo due numeri sul sito del comune che si possono trovare, dove si può chiedere una mano perché chi ha bisogno, essendo a casa magari una famiglia colpita per intero, se ha bisogno di qualsiasi cosa può rivolgersi a questi numeri attivati dalla protezione civile nel nostro comune. Nonostante l'emergenza Covid, continuano comunque i lavori nel territorio. C'è una novità per quanto riguarda il guado? C'è una novità e come ben sapete i lavori mancava poco alla fine di questi lavori, però purtroppo per colpa dell'indagine si sono fermati, abbiamo dovuto sollevare le aziende che hanno state incaricate di portare a termine i lavori per ovvi motivi. Ovviamente l'agenda in questo momento l'ha detta più l'avvocato che non il consiglio comunale. Diciamo che ieri c'era una novità, non ha finito la soletta, l'azienda adesso lascerà il passo a una nuova azienda che porterà a termine questi pochi giorni che ci separano l'apertura del guado. Adesso è veramente una questione solo burocratica nel trovare una seconda azienda che porti a termine i lavori. Lutto a Udine per la morte improvvisa di Pietro Di Martino, conosciuto da tutti come Pierino. Solo venerdì mattina il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, accompagnato dagli assessori Fabrizio Cigolot, Maurizio Franz e Francesca Laudicina, gli aveva conferito il sigillo della città quale storico gestore di locali in città. Pierino infatti da quasi 40 anni ospitava i cittadini di Udine nelle sue pizzerie. Il pizzaiolo è stato stroncato da un infarto mentre era nel suo locale in Chiavris, poco dopo le 18 di ieri. Soccorso dal personale del 118, a lungo i medici hanno provato inutilmente a rianimarlo. Ancora cronaca con diversi incidenti, due in particolare stradali nelle ultime ore in provincia di Udine. Il primo si è verificato intorno alle 21.30 a San Daniele, dove il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finito fuori dalla sede della strada in via San Luca senza coinvolgere altri mezzi. La corsa della vettura è finita in un boschetto, il mezzo si è ribaltato su un fianco. La persona che era alla guida della vettura ha riportato diverse lesioni e traumi, ma non è in pericolo di vita. È stata trasportata all'ospedale con l'autolettiga. Il secondo incidente si è verificato intorno alle 22.30 a Udine, in via Mentana, dove il conducente di una vettura, anche in questo caso, ha perso il controllo ed è andato a finire contro un muro. Nonostante lo schianto contro la parete di una casa sia stato violento, l'uomo comunque non ha riportato lesioni particolarmente serie. È stato medicato in pronto soccorso e accolto in reparto al Santa Maria della Misericordia di Udine. Altro incidente stradale nella serata di ieri, stavolta a Pertegada di Latisana, in via Volton, vicino al ristorante da Mauro. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati due veicoli in un impatto frontale. Ad avere la peggio, una donna che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in gravi condizioni. Sono coinvolte tre persone. Apriamo la pagina sportiva con l'Udinese. Dopo il pareggio di Reggio Emilia è tornato il sereno in casa bianconera. Per Gotti, che ha incassato il sostegno della squadra, all'orizzonte ci sono altre buone novità. Giornata di riposo oggi in casa Udinese, dove è tornato il sereno dopo il punto conquistato a Reggio Emilia nell'anticipo di venerdì. La classifica ovviamente. Nel frattempo, Gotti Albruseschi potrà continuare a lavorare sulla crescita della squadra, che, altra notizia davvero positiva, ha ritrovato quel nuiting la cui assenza ha pesato molto sul rendimento della retroguarda. In serie B, il Pordenone reduce dal pareggio con il Chievo in rimonta allo stadio Teghi, il di Lignano Sabbiadoro. La soddisfazione del presidente Mauro Lovisa a fine gara. Sentiamolo. Presidente, un pareggio contro il Chievo, che come considera? Arrivato proprio all'ultimo momento. Direi di sì, direi al novantesimo, anche se penso che il risultato giusto sia il pareggio, perché loro hanno fatto meglio il primo tempo. Poi, come dicevo, il calcio è strano. Nel miglior momento nostro, il cortatore al secondo tempo, abbiamo avuto diverse ripartenze, una bella parata del loro portiere, abbiamo preso gol. Poi abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento, perché magari a livello psicologico, avendo una squadra molto giovane, queste cose le patisce, dopo abbiamo ripreso bene alla fine e sono contento che ha fatto il gol Musovic, che è un attaccante che sentiremo parlare in futuro. Tra l'altro oggi cinque regionali, un valore aggiunto per una società come la vostra? Sì, direi di sì, cinque friulani, il 50% della squadra, credo che poche volte abbiamo visto una cosa del genere, credo quasi mai, in Serie B, soprattutto in Friuli. Credo che questa è un po' la nostra filosofia, perché poi sono ragazzi di valore, secondo me qualcuno arriverà in Serie A fra qualche anno, quindi cerchiamo di portare avanti un po' di amor più per il territorio, insomma, e quindi vediamo quelle prossime. Però, come ripeto, adesso c'è voglia di riposare qualche giorno, ma poi bisogna riprendere, perché bisogna che puntiamo anche a vincere, perché abbiamo bisogno di fare una bella vittoria in casa. E per l'informazione, per il momento è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento all'edizione delle 19. Buona domenica. Grazie a tutti.